Io questa sera voglio iniziare il video con una domanda, una domanda da farvi, che poi diventerà una seconda domanda, che poi diventerà una terza domanda, su cui poi andremo ad articolare tutto il contenuto. Siete soddisfatti di quello che abbiamo visto questa sera? Di quello che avete visto questa sera? Io credo che la risposta sia no, e credo che sia anche la risposta corretta. La seconda domanda che vi faccio, secondo voi, se questo è lo standard di prestazioni in grado di offrire la Juventus in questo mese di aprile, calendario alla mano, guardando quello che è il mese di aprile, siete convinti che la Juve possa raccogliere un buon bottino nelle tre competizioni? Credo che la risposta sia no. Terza domanda, secondo voi questa sera si è avvertita l'assenza di Rabiot dal primo minuto? L'assenza di Kostic dal primo minuto? E quindi la Juventus si è trovata più in difficoltà perché solitamente lì a sinistra si trova molto a suo agio, è la parte forte della Juve, a differenza della passata stagione che era la parte debole. Secondo me la risposta è sì, si è avvertita una gran mancanza di un giocatore fisico come Rabiot e di un giocatore tecnico anche, oltre che fisico, come Kostic. Perché poi Kostic quando è entrato i palloni ne ha messi, a me pare di vedere una Juventus che nel primo tempo gioca a destra perché sa che c'ha quadrado a destra, nel secondo tempo gioca a sinistra perché sa che c'è Kostic a sinistra. Invece nel primo tempo con De Sciglio a sinistra, nel secondo tempo con De Sciglio a destra si fa un po' più fatica a creare, proprio perché per caratteristiche De Sciglio è un giocatore più difensivo. Che come quinto a volte mi sembra proprio abbastanza sprecato, nel senso che non è in grado di offrire, non è in grado di offrire. Terza domanda che vi faccio, avete visto una differenza di classifica da seconda squadra in Serie A a terz'ultima squadra in Serie A stasera? Perché la risposta che vedo io è no, mi è sembrato di vedere due squadre, non dico sullo stesso livello, ma quasi. Invece, classifica alla mano, il campo dice che la Juventus, che giocava in casa di fronte ai propri tifosi, di fronte ad Alessandro Del Piero, è la squadra che dopo il Napoli ha raccolto più punti e che quindi è il secondo posto in classifica. Lo stesso è la Sverona, che aveva perso dalla Sampdoria nella partita precedente e che si posiziona al terz'ultimo posto, squadra che molto probabilmente andrà a retrocedere in Serie B. squadra che difficilmente riesce a fare punti, a fare risultati, a maggior ragione è in trasferta. Quindi la seconda in casa contro la terz'ultima. Io quello che ho visto stasera, a me è sembrato delle squadre di pari livello. E la domanda che vi faccio ulteriormente, ma quindi la differenza sta tutta nel fatto che non giocava Kostic, Rabiot di Maria Vlaovic, ho cercato di sviluppare un po' questo discorso anche sul numero 10. È uscita una parte di post partita pure lì, trovate il link in descrizione dove ho fatto alcune considerazioni, in cui parlavo anche degli interventi che ha dovuto fare Scesni per salvare il risultato all'interno di questa gara. E io non sono soddisfatto, perché la Juve si porta a casi tre punti questa sera, ma fa come una sofferenza incredibile. Sempre sul numero 10 dicevo, io non voglio sentire che la Juve questa sera ha gestito, perché c'è un calendario pesante, perché poi martedì c'è l'Inter. La Juve non ha gestito questa sera. La Juve questa sera ha faticato, la Juve questa sera ha rischiato. La Juve questa sera non è riuscita nemmeno a concretizzare quell'azione lì di Bremer e Gatti, quel tiro di Bremer svirgolato con Gatti che mette un cioccolatino, Di Maria che ne mette ancora un pallone più bello. La Juve questa sera ha fatto fatica, la Juve questa sera ha mostrato i suoi limiti, la sua parte più umana. E quindi il punto è quello lì, la domanda delle domande è, quindi questa Juve, che secondo me meritatamente ha il secondo posto in Serie A, senza quei due o tre giocatori chiave, è davvero una squadra così di basso livello? O questa sera è andato storto qualcosa, questa sera è andato male qualcosa? Anche Allegri era contento. Allegri ancora una volta se ne va prima della fine, la prima partita. La domanda allora è questa qui, questa squadra è talmente tanto rabbiudipendente, costicilipendente, di Maria dipendente, che se mancano questi due o tre giocatori qua abbiamo finito, non siamo più in grado di essere pericolosi. Io vi ho visto stasera un Locatelli costretto a farli straordinari, perché a centrocampo Barrile Cera nel primo tempo, inestamente, mi ha convinto, e anzi, cioè proprio no, con anche Fagioli distante da quelli che sono stati i suoi standard di rendimento, e quindi centrocampo Fagioli-Locatelli, Rabiot, che è il titolare giusto, si completa, ma poi manca Rabiot, allora sta roba qui, cioè perché se, poi va a intersecarsi anche quei discorsi rinnovi, futuro, anche l'altro giorno, Scanavino, l'ho sentito parlare, abbiamo fatto il video, e vi dicevo sì, Di Maria è un po' più vicino al rinnovo, Rabiot dipende, però se poi la domanda ha la risposta sì, la Juve senza questi due o tre è un'altra squadra, allora fatti di tutto per trattenerli, cioè questa è la risposta che mi vado a dare, perché questo aprile sarà tosto, è difficile, e io continuavo a dirvi, non siamo mica pronti per affrontare questo aprile di questo livello, però è ora di iniziare a mettere qualcosa di più, e queste prestazioni qua, mi fanno pensare, mi fanno pensare, mi fanno dire, se le giochiamo così non so dove arriviamo, non so quanti punti raccogliamo, Lazio, Napoli, ma anche Bologna, per dire Sassuolo, l'Inter ha perso oggi dalla Fiorentina, certo, l'Inter è una squadra in questo momento, col dente avvelenato, tanto con noi ha maggior ragione, perché l'ultima prima della sosta, che abbiamo battuti, ci sono state le polemiche, non è data giù, quindi l'Italia in questo momento è obiettivo concreto per l'Inter, obiettivo che devono toccare, quindi sicuramente saranno incassati come delle bisce, perché ne hanno perse due, tre mi pare, di fila in Serie A, quindi sicuramente non sono contenti, arriva con dente avvelenato. Sono una squadra che può metterci in difficoltà, penso che sia una squadra che ogni tanto sembriamo arrivati a un punto, che dici, oh finalmente possiamo iniziare a lavorare su determinati binari, e la partita dopo, io capisco che dopo le pause sia complicato, capisco che stasera mancano i giocatori, allora ragazzi, è sembrato che l'Elas Verona a tratti si sia dimostrato più pericoloso della Juventus, e ripeto, stiamo parlando di una squadra, abbiamo visto anche nelle statistiche del video di stamattina, che fa fatica, fa molta fatica, è una squadra a cui ha lasciato tantissimi cross, ma veramente una marea, meno male che quei tre dietro l'hanno retto bene, meno male che Cesni comunque stasera i suoi due, tre interventi di livello li ha fatti, e ti ha permesso di arrivare a portare a casa un clean sheet, partita che finisce esattamente come all'andata, con il gol di Moise Ken per 1-0, però se non dico a distanza di un girone, perché adesso abbiamo il calendario asimmetrico, quindi non è proprio così, però se a distanza di così tanto tempo da una partita, come poteva essere quella di andata, quella di ritorno, siamo ancora a queste condizioni, siamo ancora in queste situazioni qua, io mi interrogo, è una Juve che volontariamente trattiene energie? È una Juve che per via della mancanza di alcuni giocatori chiave non è in grado di esprimere? È una Juve che perché aveva già in mente la partita successiva? Io non so qual è la domanda a queste risposte, secondo me il fatto che Allegri sia stato così arrabbiato e così insoddisfatto già da inizio del primo tempo, a me fa dire che lo stesso Allegri sia stato sorpreso di quello che è stata la Juve stasera, e secondo me Allegri stasera va a letto dicendo, e ragazzi abbiamo vinto ma cazzarola, non doveva mica andare così, e io sono dell'idea che Allegri, perché Allegri lo sto vedendo diverso, ve l'ho già raccontata questa storia, sono veramente convinto che Allegri stia iniziando a dire, ragazzi ma se giochiamo così non c'è mica storia, che sia l'Inter in Coppa Italia, che sia lo Sporting in Europa League, ma che sia il Bologna al Dallara pure, cioè queste cose non... Io credo che stasera la Juventus debba andare a letto incazzata, ogni giocatore della Juventus stasera non deve andare a letto felice della vittoria, deve andare a letto arrabbiato, perché Lella si è andata in casa tua a metterti in seria difficoltà a pochi giorni da una partita chiave, davvero chiave, per il futuro, per questa stagione, quindi dai meglio ragazzi, contentissimo sicuramente per i tre punti, anche se sappiamo bene che in Serie A ormai è diventato un discorso che non sai nemmeno per cosa... Però non credo che oggi nel tifoso, nel giocatore, nella Torre della Juventus possa essere soddisfatto, probabilmente possono essere soddisfatti quelli dell'Ellas, perché arrivano a Torino, fanno una partita gagliarda di questo tipo, e magari pensano anche se avessimo fatto più prestazioni di questo tipo magari la zona a retrocessione non sarebbe così vicina. Chiudo dicendo che domani non uscirà la live reaction, intanto perché soltanto un gol a zero c'è poco a cui reagire, e quindi risparliamoci in seconda battuta, perché domani mattina prenderò il treno per andare a Torino, dove giocheremo la partita di YouTuber League contro il Milan, quindi già adesso registrerò le pagelle che solitamente registro il giorno dopo, invece oggi dovrete accontentarvi delle pagelle a caldo, che comunque verranno pubblicate domani mattina. Fatemi sapere se anche voi l'avete visto un po' come un parto, io, sapete bene, quando arriviamo a questo punto della stagione inizio a essere sempre più critico, perché capisco che a questo punto della stagione qui non c'è più spazio per migliorare, cioè bisogna essere arrivati a questo punto della stagione, quello che sai fare lo sai fare, quello che non lo sai fare te lo tieni, però questo mi è sembrato un grosso passo indietro per iniziare un mese d'aprile che invece dovrà farci vedere due, tre passi in avanti. Questa cosa mi toglie un po' di energia, devo essere onesto, spero di vedere invece una Juventus vogliosa di portare a casa un trofeo in Coppa Italia con l'Inter, perché non credo che la Juve in questo momento sia in grado di potersi permettere di sbagliare anche solo una partita tra andate e ritorno. Questa Juve mi sembra una squadra che necessita di stare sul pezzo. Quindi ditele incrociate, sperando di non vedere un'altra prestazione simile. Martedì in Coppa Italia, proprio no.